La novità è che è confermato quello che era stato anticipato con Rete Veneta che avevamo in qualche modo detto e adesso si tratta comunque di correre perché USL deve garantire il servizio dal 27, anzi dal 28 di questo mese. Il dado è tratto, arriva la conferma della notizia che avevamo lanciato in anteprima assoluta su Rete Veneta. Il centro vaccinale lascia la Fiera di Vicenza e si trasferisce a Torri di Quartesolo. Succederà il 28 luglio nel senso che il 26 luglio sarà l'ultimo giorno in cui saremo operativi presso la Fiera di Vicenza, il 27 ci prendiamo un giorno per allestire e completare l'allestimento ma saranno attivi però i due centri di vaccinazione periferici cioè Montecchio e Valdagno e il 28 iniziamo questo nuovo corso nel centro Torri 1. I cittadini riceveranno un messaggio sms o un email che li avvertirà del cambio di sede. A partire dal 28 di luglio non ci si vaccinerà più in Fiera ma nel nuovo hub di Torri di Quartesolo in Via dell'Industria dove ci saranno almeno 15 postazioni e un ampio parcheggio con posti disabili previsti proprio davanti all'ingresso. Quello che nascerà dovrebbe essere anche un centro tamponi. Insomma dalla porta ovest l'hub si sposta a est. Fino a questo momento tutti i centri vaccinali di USL numero 8 erano nella zona ovest sia per quanto riguarda Vicenza ovest Fiera sia per quanto riguarda gli altri centri a Montecchio, Attrissino, Valdagno, Lunigo, 90. Ecco tutti erano tutti quanti a ovest adesso c'è un centro che sta a est e quindi può servire sicuramente bene Vicenza perché è le porte di Vicenza ma servirà meglio anche i comuni della parte est.